bentornati sul canale questa mattina è sabato 4 febbraio sono stata da tigota e ho fatto un piccolo shopping eccolo qua ve ne voglio parlare infatti vi ho messo una fotografia su instagram e anche su snapchat un piccolo video di ciò che ho acquistato tutti i prodotti li ho acquistati perché sono appunto in offerta e penso che siano molto convenienti shampoo della fran provo expert cooler questo è per i capelli mesciati o comunque trattati e in abbinamento a questo ho preso la maschera e ho trovato anche il termoprotettivo questo è expert protection 180 gradi adatto per appunto spruzzarlo sui capelli vaporizzarlo sui capelli quando utilizziamo font piastre e ferri i fran provo io li conosco perché già li utilizzo abitualmente oramai da mesi quest'estate e presto uscirà anche la recensione sui prodotti expert cooler questi qua e questo appunto lo voglio provare tutti questi prodotti fran provo solitamente costano io almeno li pago qui a bari in un negozio in particolare li pago questo 5 euro 5 euro si dico bene invece questo qui l'ho pagato 4 95 o 4 50 mentre stamattina li ho trovati tutti e tre a 3 euro e 75 ognuno mi è sembrato un vero affare e questo si chiama manila epildoos epilatura disco remover pad elimina e indebolisce i peli con un semplice massaggio lascia la pelle morbida e ve l'usata in dolore non l'ho provato ovviamente e sigillato siccome assomiglia a uno dei epilatori che ho visto pubblicizzati in una televendita e comunque li ho visti anche in azione in fiera d'elevante quest'estate visto che costava 4 euro e 75 4 euro e 49 ho pensato di provarlo all'interno dovrebbero esserci 4 o 5 dischetti quindi proverò anche questo e vedremo se effettivamente è buono come dicono neotromed dermodefence e questi 99 centesimi quindi comunque in offerta la busta colorata 75 centesimi brevissimo video haul proprio per informarvi che c'erano queste promozioni io le trovate molto interessanti infatti ho fatto una bella spesa e ah dimenticavo ho acquistato però questo non c'entra niente con la cura della persona i prodotti per la cura della persona ho acquistato questa federa da cuscino in un negozio cinese che appunto vende i soliti prodotti cinesi io questa non l'ho presa per usarla appunto come federa da cuscino ma la vedete tra un po' per i video di san valentino o comunque come top nelle fotografie mi è piaciuta perché non è rossa e bordeaux e ha questi cuoricini bianchi piccoli è una bella decorazione e infine una pinza per capelli a soli 80 centesimi il mio video termina qui vi ricordo di iscrivervi al canale di seguire per seguire tutti i video che stanno per uscire ovviamente per guardare tutti i video che sono già usciti e vi lascio giù nell'info box tutti i link ai miei canali social ciao e alla prossima